bella a tutti ragazzi sono Facilnum11 oggi siamo su caldo di modderwarfer la finale eeeh finalmente asciò fa non ce la faccio più con sto cardiopalma mamma mia vabbè comunque ricorda a tutti di mettere mi piace di iscriversi e spero che ve lo vi piaccia buona visione allora ragazzi ci troviamo nella fornace cioè nella fornace no letteralmente ma nel laboratorio di barcov per ammazzare ascio fa che sto qua ma cioè ha proprio scassato non ce la facevamo più a sopportare ma perchè ma io non l'ho visto ma dove stava sto più scappo via oppure no madonna ma quanto è buio sto posto ma dove sono i miei allievi ho un mini cammino e mi dovete stare lontani vai non so nemmeno io che cosa ho fatto ma vai aiutatemi aiutatemi aia che è juggernaut 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 scappate tutti c'è uno juggernaut aaaa muori subito scappate tutti ragazzi ragazzi che non c'è che è il nostro supercorazzato santo dio dov'è aaaa stami lontano pauroso aia non si capisce niente aaa mamma mia lasciami stare non ho fatto nulla ti giuro te bastaaardo ti giuro tieni questa grattura santo dio ho 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 dove è ma che vuoi da me che io non ti ho fatto nulla ho capito dove sto usa la flashbang per suddere juggernaut e cerca di colpirla la testa si grazie iniziamo benissimo mi fai paura stami lontano attiva questo teni che sta il minigun com'è che non funziona? fiamme le esplosioni sono particolarmente fichessi grazie ma tipo una cosa come un minigun tieni spero che ti senti male ciao russo schifo lo scampagorri scappagorgri piccolo gregory da Dov'è? Sì grazie ma che arma c'ha? Sì ma disturba la visualità dello Juggerna Con fuoco di soppressione Ma non li fa niente Quello spara a caso Quello c'ha le tante I barilli giusto Dove sono i barilli però? I barilli là Ma dove sta? Mi scappiamo dal Terminino Fuoco di soppressione Granata Mi sta venendo incontro Oh santo Mamma mia sta parte fa paura Ragazzi aiutami Faro dove sei? Faro Lasciami stare Lasciami stare Ragazzi ma sto coso mi fa paura Santo Dio Cosa vuoi da me? Mamma mia ragazzi ci ho messo 50 anni per uscire sto coso 50 anni mamma mia sono diventato vecchio Mamma mia Mamma mia oh E mi dica non c'ho più colpo Mannaggia a te Mamma mia ma oh che era Oh ti senti Che amici sono? Ah sono cose incendiari Va bene Datemi nemici normali che sono stanco Faro Faro c'è un problema Faro hai capito? In ascolto capo Generale Markov ha avvistato Ripeto Markov ha perso l'eliporto Ecco è quasi alla fornace capo Madonna ma devi scappare sempre sto qua Stavolta no però dai Chiudo Non facciamolo ce l'ho scappare farà Ecco la forza Ci sono Preni Vai Siamo arrivati alla fornace quindi Oh mio dio si Libero Che è successo? Il detonatore è fuori uso E tu non l'hai capito E io vado lì Per fare cosa? Accendo la fornace Non farei tempo Non farei tempo No quello che faccio No tu non sai quello che fai Ascoltami No ascoltami tu Per questo veleno la mia gente ha subito qualcosa peggiore della guerra Non sono arrivata fin qui per scappare Io non ti chiedo di scappare Ti chiedo di darmi l'ordine Non lo farò Comandante per favore Il tuo comandante non sono io E allora chi è? Perché qualcuno deve accendere il fuoco E qualcun altro deve uccidere Vargo Non puoi fare tutto Ho passato tutta la vita a eseguire ordini Stavolta Stavolta ci credo Dammi l'ordine Sei un difensore della libertà Sei una leader nata Farah No Alex non andare a suicidarti No Alex Vai Sì signora Alex no Alex Il nostro eroe barbuto della barbafolta Buona fatta Ma quale è Christ Alex no Caric fa schifo Povero Alex Iniziamo bene Gioco con un cecchino Un lancio a granate Iniziamo da quel cecchino Un lancio a granate E uno scar Forte Tide This is Fortnite Madafacca Un minigun Best livello ever Evviva Quanto sono felice Ma sono felice E ci parla pure Alessandro Dove sta no? Non si può sparare alle 7 del mattino Madafacca Addio Hoia 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 Sto Su 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 Le Su Toglie sta granata dai piedi Oh Morto E' vivo Tenete questa Dopo un sacco di tempo mi serve lo scarpe c'è pure la musica di Call of Duty ma quanto è figo lo scarpe è fresco per faccio andiamo bravi canto dio eccolo la maledetto aiutatemi senorra per favol quel favol in quanti sono? ma in quanti sono? in 33 no si spara al 7 del mattino capito? e aspetta un secondo che qua stanno arrivando tutti i guai pure da parte il cerro è grande ah ecco che era il mascalzone che volevo fare il calzone non è inverno non puoi fare il calzone di natalizio maledetto stai calmo oh maledetto una smitraiata è più che sufficiente ok mamma mia sto cerchino mi ha proprio rotto va bene price siamo quasi si aspetta 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 che ho la malattia del cane che adesso vedo come i cani non so perchè non so perchè ah dove andate lì? maledetto maledetto oddio ma a me quel senodato sembrava americano ah non era lusso facciamoli buoni Ah no, è un alleato Bryce, tu dove sei? Ma è la via di Pri Ma dove cacchio devo andare? Sì, ma io per favore mi dite dove andare Che non ci ho capito, una mazza, una mazza, non ci ho capito Eeeh, ok Bravo, con me I trovatori vanno di qua, andiamoci da fare Sì, signore Pronto Chi c'è? Ah, chi c'è? Nessuno, perfetto Rialza le cariche, forza Ecco, un bel pezzo di C4 Tieni per te Cariche pronti Farah, Nicolai No, è Barcof Maledetti Non mi importa che ora troverò È chiaro? Voglio subito Moschellina Non l'avrai Farah, uamma mia, ma come ci sei arrivato? Farah Non mi farò riuscire Non mi importa che ora troverò Questa è la tua ora Maledetto È la tua ora Assassinato Eeeh, volevi Aioh Sì Tieni Magneroni Tieni Tu hai sto gas Tieni Maledetto Ah, vorrei un altro Sì, la razza sa partire prima Dove sei rigenerato Come no? Non sei mica mia papà Te lo c'hai detto Stai zitto E non Taci Taci e non parlare Non devi parlare Capito, capito Cadi giù Oh, santo Dio Non ci credo Abbiamo finito sto gioco pazzo Ora È morto Capitano Barkoff è morto Ricevuto Alex Carica pronte Affermativo Alex La fornaccia è circondata Non ne uscirò vivo Facciamolo Grazie Sì signora Godiamoci quest'ultima esplosione Ricevuto Godiamocela 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 Due Uno Mamma mia Mamma mia È stato distrutto Karim Nicolai La madre russia approverebbe Dove si va? Urzikstan Casa Lascia fa finalmente Gioco finito Laswell Te? Sì, era una cosa più arcolica che avevano La russia ha rinnegato Barkoff Non aveva E vabbè ragazzi Il gioco è finito Questo non è proprio episodio finito Questo è il gioco finito Il primo gioco che finiamo in un mese Di canale Comunque ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Mettete il mi piace Iscrivetevi E spero che sia stata una buona visione Anche perché questa è l'ultima Vi ricordo di guardare anche la parte 1 Perché questa è la parte 2 E grazie per la visione Ciao